Sono Paolo Casagrande del ristorante La Sarte di Barcellona, italiano di nascita ma tanti anni in Spagna. Oggi vi proponiamo un corso a base di risotti. Il mio obiettivo è che ti converti in un esperto di risotti. Fatemi sapere, divertitevi. Oggi imparerete a fare 5 tipi di risotto diversi. Un risotto al burro acido di agrumi, rizzi di mare e cuori di mare. Un risotto al nero di seppia con espardegna, cetriolo di mare. Un risotto di crescione, castagnetta iberica glassata e burrata. Un risotto di barbabietola, aria di malta, anguilla glassata e gorgonzola. E per terminare, un altro risotto a base di aragosta. Tutto aragosta. Divertitevi, imparate. Se avete dubbi, chiamateci. Per me il risotto è un piatto magnifico che potete utilizzare come primo piatto, come piatto principale, a base di pesce, di carne, di vegetali, quello che volete. Una cosa spettacolare. Il mio nome è Paolo Casagrande. Benvenuti al Club del Risotto. E grazie Sculinari per questa opportunità.